Casellato, Carinelli, Guerini, Lorenzo, Lorenzo, Guerini, siamo in caserma, Dei Lorenzis, Ferraresi non riesce, è riuscito? No, non riesce l'onorevole, estragga la pallina l'onorevole Ferraresi che facciamo prima? Onorevole Ferraresi, se posso permettermi, voti con le dita, grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'articolo 14, il relatore di maggioranza. Parere sugli eventi all'articolo 14 è contrario. Relatore di minoranza. 14.1 Gianluca Pini, Bosse, Guidesi e altri, favorevole. 14.50 Meloni, Rampelli, favorevole. 14.51 Meloni, Rampelli, favorevole. E 14.52 sempre Meloni, Rampelli, sempre favorevole. Governo. Conforme al relatore di maggioranza, Presidente. Grazie. 14.1 Gianluca Pini, prego. Grazie, Presidente. L'emendamento è totalmente sostitutivo dell'articolo 14 perché l'esercizio di ipocrisia che il Partito Democratico ha cercato di rifilarci oggi anche con l'intervento della collega Morani qui viene smascherato totalmente perché non solo vengono messe le briciole per questo fondo destinato alle vittime di reati violenti, ma addirittura vengono accorpati con quello che è il fondo per il fondo di rotazione.